Perché investire nell'azionario europeo? Oggi è la domanda più frequente. I motivi per cui investire nell'azionario europeo sono diversi. Volendo dare un quadro, soprattutto dal punto di vista del background economico, direi che la domanda aggregata sul mercato europeo rimane ancora piuttosto deludente. La crescita del PIL è piuttosto bassa, in alcuni casi addirittura negativa per alcuni paesi, come soprattutto quelli periferici. L'unico che oggi dimostra di avere una forza trainante maggiore è sicuramente la Germania. La grande verità è che i nostri investitori, quando decidono di comprare azioni europee, non stanno comprando il PIL attuale, né tantomeno la scommessa di quello che sarà il PIL nei prossimi mesi o nei prossimi anni, ma decidono di comprare azioni cercando di scommettere sul rialzo degli utili di queste aziende. Esistono almeno tre buoni motivi per investire oggi sul mercato europeo. Direi che il primo è quello che riguarda le valutazioni. Oggi il mercato europeo risulta essere decisamente quello più a sconto rispetto alle altre piazze, quindi americane, così come quelle dei paesi emergenti, ed è la fase di maggior sconto degli ultimi 40 anni. Un altro elemento a cui noi guardiamo con particolare interesse è il fattore rendimento. Se guardiamo la dinamica dei dividendi, oggi il mercato giapponese ha un fattore di rendimento intorno all'1,8%, il mercato americano il 2,3%, il mercato emergente il 3,2%. Oggi la dinamica dei dividendi relativi alle azioni europee è intorno al 4%, quindi direi un rendimento decisamente più interessante rispetto alle altre piazze finanziarie. Un altro elemento da considerare è lo strutturale e storico sottopeso degli investitori sul mercato europeo. In queste ultime settimane stiamo assistendo a un riposizionamento verso il mercato europeo, ma direi che c'è da recuperare ancora tanto sottopeso che sino ad oggi è stato presente nei portafogli degli investitori, soprattutto per le paure relative al break up dell'euro. Ecco, in questo scenario che soluzione proponete ai risparmiatori? Direi che il messaggio chiaro per i nostri investitori è fondamentalmente focalizzato su due tipi di soluzioni di investimento. La prima è Invesco Panupian Equity, un fondo gestito da un tipo di investimento basato ad Enel e nelle vicinanze di Londra che è tendenzialmente più benchmark oriented, quindi decisamente un po' più volatile ma anche più performante nelle fasi di rialzo del mercato. L'altra soluzione che invece calteggiamo, sapendo che oggi la gestione del rischio è l'elemento più determinante nella scelta delle soluzioni di investimento, è Invesco Panupian Structured, che per definizione è un fondo low volatility, quindi un fondo con una gestione della volatilità estremamente bassa. È un esempio per i nostri ascoltatori, può essere il dato che ha ottenuto questo fondo, soprattutto nel 2011, quando il mercato ha perso l'8%, questo è stato l'unico fondo in Europa che ha avuto un risultato positivo con il più 1%. Detto questo, riteniamo che oggi, al di là di tutto, il mercato europeo sia il mercato decisamente da sovrappesare nelle scelte di investimento dei nostri risparmiatori.